Tristina tra campo e mercato Per ciò che riguarda il risultato i Rosola Bardati hanno segnato tre gol, tutti nel secondo tempo. Al settimo minuto con Pastore, l'esto a insaccare da pochi passi un corner di Bracaletti spizzato sul primo palo dai Lasni. Al venticinquesimo la volta di Rashida Arma, imbeccato da un corridoio rasoterra di Bracaletti e abile a rendere vana l'uscita del portiere avversario con un diagonale mancino. Infine cinque minuti più tardi ha referto Maudo Keita, grazie a un improvviso quanto potente diagonale sinistro a mezzo altezza dei 18 metri. Il punto è sul mercato, il caso Vicenza ha scombinato le carte nel panorama della Serie C e ha ruota anche tra i dilettanti. Nei giorni scorsi sono partite ufficialmente le prime richieste per l'arbitrato che deciderà lo svincolo d'ufficio per cui ci vorranno ancora un paio di settimane circa. I pezzi pregiati non mancano e molte società restano alla finestra per i giocatori migliori, come l'attaccante Comi che ha il suo attivo a nove retti in 18 presenze. Per quanto riguarda il resto, ha preso nei giorni scorsi l'addio del portiere Perisan, arrivato il rosso labbardato a inizio anno con la formula del prestito da parte dell'Udinese e ora ha prodato l'Arezzo e detto anche dell'impiego a titolo di prova di Saibo Maudo Keita, attaccante classe 97 di doppia nazionalità norvegese-gambiese con un recente trascorso tra le fila dell'Arca Ghedegna, ragazzo che peraltro sta ben figurando anche grazie alle due reti segnate contro il Muglia Fortitudo. Le ultime riguardo le trattative tra club interessano uno scambio con la regina. In Calabria andrà Ivan Castiglia, a Trieste arriverà Carmelo Maesano, classe 96, che può giocare sia come terzino destro che sinistro. Infine c'è da considerare che la partenza di Castiglia sblocca un posto da destinare a un over e qui ricorrono nuovamente le voci su un possibile ingaggio di Della Rocca.